Rolando il benessere espresso non è un semplice prodotto, non è una semplice macchina per l'espresso, ma è molto di più, è una gamma di prodotti studiata per soddisfare tutti i tipi di gusti e attenzione, tutti i prodotti sono 100% naturali. Rolando il benessere espresso è la prima macchina automatica per la produzione di tè, tisane e infusi. Come funziona Rolando il benessere espresso? Facile e veloce, vedete con me. Il serbatoio è removibile per consentire una pulizia accurata, nell'uso quotidiano non è indispensabile rimuoverlo per riempirlo. Dotato di tacche che indicano livello minimo e massimo per l'uso corretto della macchina. Nel serbatoio l'acqua già c'è, quindi proseguiamo mettendo la nostra capsule. Apriamo il vano portacapsule, io direi un caffè, quindi mi raccomando ricordate la parte argentata sotto. La chiudiamo, schiacciamo il pulsante di accensione. La luce rossa significa che la macchina è in funzione, la verde che la macchina è in temperatura. Abbassiamo il sostegno porta tazzina per migliorare il risultato e ora basta schiacciare il pulsante per l'erogazione. Poco meno di 20 secondi e il nostro caffè è buono e fumante. Rolando, il benessere espresso. Rolando il benessere, la natura, in capsule. E non è un modo di dire, guardate. Abbiamo aperto per voi le capsule, guardate cosa c'è dentro. Fiori, grani, foglie, direttamente in capsula, guardate. La particolare struttura della capsula consente di preservare le caratteristiche organolettiche e allo stesso tempo consente un'infusione perfetta. Quindi tutte le proprietà naturali vengono estratte e finiscono direttamente nella vostra tazza. Le materie prime provengono dalle migliori piantagioni del mondo per garantire la qualità delle bevande Rolando il benessere espresso. Caffè, tè e piante officinali al 100% naturali, incapsulati in foglie o chicchi macinati. Tutte le bevande sono non solubili e sono prive di conservanti e additivi per assicurare sempre benessere e genuinità. La macchina specifica rappresenta lo strumento perfetto per l'estrazione dei principi naturali delle piante. Prepariamo allora una tisana. Prima però dobbiamo pulire il circuito. È semplicissimo. Alzo la leva, la capsula viene espulsa, la richiudo senza capsula ripremo il pulsante dell'erogazione. Pochi secondi per dare modo all'acqua calda di ripulire i circuiti. La ripremo. Siamo pronti per preparare la tisana il cui gusto rimarrà inalterato. Prepariamola. Visto che prepariamo un'altra tisana, vi ricordo anche come funziona Rolando. È semplice, è veloce, ma io ve lo rispiego. Allora, il circuito è già pulito, abbiamo appena pulito, quindi apriamo la leva, inseriamo la nostra tisana, mi raccomando la parte argentata sotto, la chiudiamo, inseriamo la tazza, siamo pronti e quindi erogazione. Il pannello comandi è molto semplice. Questo è il pulsante di accensione. Quando lo pigiamo si accende la spia rossa, che sta a indicare che la macchina è in funzione. Dopo un po' si illumina la spia verde, significa che la macchina ha raggiunto la giusta temperatura. Inseriamo la capsula, selezioniamo il pulsante erogazione e in circa 20 secondi la bevanda è pronta. Alzando la leva, la capsula già utilizzata cade nel vano raccogli capsule sottostante. Rolando, il benessere espresso. Alcune caratteristiche che differenziano in maniera assoluta il prodotto. Capsula brevettata e macchina automatica. Pre-infusione che consente di ottenere bevande dal gusto intenso. Pulizia automatica del circuito per mantenere inalterati il sapore e proprietà delle bevande. Caprest o sostegno tazza per ottenere il miglior caffè espresso. Massima semplicità d'uso e massima igiene garantita in ogni fase. Rolando il benessere espresso rappresenta una filosofia rivolta a un'esigenza del consumatore sinora non totalmente soddisfatta. Quella di bere sano ogni giorno, in qualsiasi momento. Bere buono e con gusto, in maniera veloce e facile. Con risultati ottimi, ma non solo. Il consumatore ha a disposizione svariati canali di acquisto delle capsule, compresa la grande distribuzione. Acquistare Rolando il benessere espresso è facile. Lo trovate online visitando il sito www.benessereespresso.it contattando il numero 840-000-207 e in svariati punti vendita della grande distribuzione. Macchina espresso totalmente automatica. Tè, tisane, infusi e anche caffè 100% naturali. Tutto questo è Rolando il benessere espresso. Tutto questo è vero. Grazie per la visione! Grazie a tutti!